Musica L'esudo dei vacanzieri, tutti in fila verso il sud, qualche disagio alla barriera di mercato San Severino, ma migliaia si sono messi in viaggio anche stamane per raggiungere le località balneari, Calabria, Sicilia e Campania, le mete più gettonate, intanto dai napoletani consigli per chi resta in città. Le elezioni in Campania, partiti cercano i big, impazza il toto candidati a due settimane dalla consegna delle liste per le elezioni politiche, nel PD resta il nodo di Maio, De Luca Salerno prova a blindare il figlio Piero, ad Avellino, D'Agostino e Pol per l'uninominale di Forza Italia. Il cinese accusa la polizia, vittima di razzismo, l'episodio a fratta maggiore, la denuncia in un video è diventato virale sui social, ma la questura smentisce la versione del cinese, non aveva i documenti e si è rifiutato di seguire gli agenti negli uffici per l'identificazione. Mercato Benetta in Movida, ma da Avellino è polemica, fiera bisettimanale di sera, pienone a Picarelli, al concerto Ioretta Berti, commercio che riparte con due distretti in città e una nuova notte bianca. In città però resta sullo sfondo la protesta per la Movida. Marchigiana del Fortore, come uscire dalla crisi, San Giorgio Lamolara punta sulla promozione dell'importante produzione che caratterizza il centro del Beneventano, il comparto è in crisi ma gli esperti indicano la via d'uscita in una strategia comune. Pelezzano insiste a delocalizzare le fonderie, a Salerno continua a tenere banco la vicenda legata alla delocalizzazione dello stabilimento dei Pisano, il sindaco di Pelezzano, Francesco Morra ad Otto Channel rilancia, servono atti concreti, bisogna fare presto. Buona domenica e ben ritrovati con il TG News. Il primo weekend di agosto è all'insegna dell'Esodo verso sud, migliaia di vacanzieri si sono messi in viaggio per raggiungere le località balneari, Calabria, Sicilia e Campania, le mete più gettonate, traffico intenso e bollino nero su strade ed autostrade. In Italia si torna a viaggiare, le località del sud si riappropriano dello scettro di Regine dell'Estate. Nel primo weekend di agosto, segnato ancora da temperature roventi, migliaia di vacanzieri si sono messi in viaggio per raggiungere le località nelle quali trascorreranno le proprie vacanze. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia anche quest'anno si confermano le mete più gettonate. Resteremo una settimana e andremo al Golfo di Squillace in Calabria. Come mai ha scelto questa location? Ci è stata suggerita da persone che già ci sono state, quindi andiamo lì. Dalla Svizzera due settimane. Se posso chiedere dove siete diretti? In Sicilia. Siamo appena tornati da Tropea ieri sera, poi facciamo un'altra settimana qua di lavoro e poi si riprende per le vacanze. Sicilia, due settimane. L'Esodo verso sud ha provocato problemi di viabilità sulle principali direttrici. Per tutta la giornata il bollino sarà rosso. In Campania le criticità maggiori si registrano alla barriera di mercato San Severino, con code di qualche chilometro per via del traffico intenso. Stiamo rientrando a casa in Calabria. Siamo partite stamattina da Roma alle 6 e adesso abbiamo trovato un bel po' di traffico. Siamo dirette in Calabria e poi in Puglia, quindi ce ne sarà di strada da fare. La viabilità è stata scorrevole all'inizio, adesso abbiamo trovato tanta coda, speriamo di rientrare almeno con due ore di ritardo, però di essere finalmente a casa. Bello il viaggio perché comunque non c'era tanto traffico e comunque nonostante poche autogrill sono tutti molto disponibili e accoglienti. Ma sono comunque tante le persone che resteranno in città per trascorrere le vacanze estive. Sentiamo i consigli dei napoletani su cosa fare. E' scattato l'esodo dei vacanzieri anche in Campania, ma sono tanti i residenti che resteranno in città. Ecco i consigli sul come trascorrere il tempo dei napoletani. Di godersela la città, di godersela camminare, sentire i rumori della città, ascoltare le persone. Napoli è una città che ad agosto dà il meglio di sé. Diciamo la verità, pochi soldi, però quando Napoli si libera è da scoprire tutto, tutto quello che c'è, musei, centro storico, lungomare, è bellissimo, è bellissimo. Napoli è come una donna, è una donna affascinante. Questo caldo ci dobbiamo accontentare nel mare e nell'intorno. Dipende dai gusti, andare a bar, andare a un posto fresco, un bosco. Uscire la sera che fa un caldo bestiale non se ne può. Un occhio anche agli appuntamenti culturali. I consigli sono gli spettacoli che l'amministrazione ha organizzato sia a Piazza del Prebiscito che al Maschiangioino e nelle varie municipalità. Sicuramente godessi la città, tutti i decumani, assolutamente da non perdere. Da un po' di anni a questa parte la città si è organizzata per offrire anche momenti di spettacoli non solo ludici ma anche culturali. E tra mare e ricchezze del territorio non può mancare la buona musica. Stare molto in famiglia, sentire una buona canzone napoletana antica per chi ti solleva dal morale. Come è dolce, come è bella, la città è buona e la cenella. Ed ora voltiamo pagina in primo piano i dati dell'emergenza Covid in Campania. Sono 3.246 positivi del giorno al Covid su 18.301 test effettuati per un indice di contagio pari al 16,67% in calo rispetto al dato registrato 24 ore prima del 18,20%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 22 in calo anche quelli di degenza. Ora sono 519 e dunque 24 in meno rispetto ai 543 di ieri. Impazza il toto candidati in Campania due settimane dalla consegna delle liste per le elezioni politiche. Due settimane, tanto manca la presentazione di liste e candidati alle prossime elezioni politiche. Dunque, con tempi strettissimi, strettissimi sono pure i margini per i ragionamenti e per le scelte. Impossibile ipotizzare notti di gomma e matita come in passato. E in Campania, terra che spesso decide vinti e vincitori alle politiche, i partiti ora guardano attentamente a che scelte mettere in campo. Battaglia nel centrodestra per quel che attiene il numero di seggi che spettano a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. I salviniani puntano a ricandidare gli uscenti Cantalamessa, Castiello e Urraro e scalpitano anche i consiglieri regionali Nappi e Zinzi. Forza Italia potrebbe puntare forte su D'Agostino in Irpinia, mentre sogna di coronare il lavoro svolto in questi anni il giovane sindaco di Puglianello, Francesco Rubano nel Sannio, in Pol, per una candidatura in buone posizioni. Scalpita a Matera per Fratelli d'Italia e tra i Meloniani ci dovrebbero essere anche Rastrelli a Napoli e ovviamente Cirielli e Iannone a Salerno. Nel centrosinistra scalpitano i big, ci sarà sicuramente Enzo Amendola e scenderà in campo personalmente anche in Campania il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ci sarà anche Mara Carfagna in campo, mentre da valutare ci sono conformazioni caratteristiche della pattuglia deluchiana. Da Piero, figlio del governatore, che vorrebbe una candidatura blindata, al vice Bonavitacola, al consigliere regionale Franco Picarone. Per Sannio Irpinia dovrebbe esserci l'uscente Dem De Caro, da vedere se al proporzionale o all'uninominale. Per i 5 Stelle, invece, si punta a confermare almeno una parte degli uscenti dopo il boom del 2018. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, per non aver attemperato all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno di altro documento di identificazione. Il commerciante, di origine cinese di 22 anni, protagonista di un video diffuso sui social, è divenuto virale nel giro di poco tempo, che ritrae la sequenza del suo fermo all'opera di due agenti di polizia nel napoletano. A generare il dibattito social e l'avversione, resa dal giovane, che accusa di essere stato vittima di razzismo da parte dei tutori dell'ordine, ma la polizia smentisce. Giovedì pomeriggio, gli agenti del commissariato di Fratta Maggiore, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti all'esterno di un esercizio commerciale per la segnalazione di una lite. Il commerciante, durante le fasi dell'identificazione, si è rifiutato più volte di fornire le proprie generalità ed è stato accompagnato negli uffici di polizia, dove è stato identificato. Alla scoperta delle suggestioni al tramonto, nel parco archeologico del Posillipo, un'arpa e fisarmonica sulle note di Piazzolla nel Teatro Grande. Incanto e magia, con Pausillipon, suggestioni all'imbrunire, la rassegna di musica e teatro nel parco archeologico ambientale del Pausillipon, alla luce del tramonto, in uno dei luoghi più belli e suggestivi di Napoli. L'evento, ideato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, d'intesa con la sovrintendenza, con il patrocino del comune e del parco sommerso di Gaiola, si ripropone come raffinato incontro tra archeologia, natura, musica e teatro nella straordinaria cornice dell'antica Villa d'Ozium del I secolo a.C. di Publio, Vedio e Poglione. La grande sfida della rassegna, per come è stata concepita sin dai suoi albori, è proprio il fatto di avere quanto meno impatto possibile sull'ambiente, sulle strutture archeologiche, quindi è tutto assolutamente inacustico. Ed è un luogo intimamente legato poi al parco sommerso di Gaiola, perché in effetti i resti archeologici che noi troviamo sommersi nel parco sommerso di Gaiola sono i resti afferenti a questa stessa villa. Intanto tuffi speciali nel blu dell'area marina protetta di Gaiola, tra archeologia e turni per consentire a tutti di fruire di una perla di cultura, bellezza, fascino e natura nel cuore di Napoli. Questo parco, questo luogo nasce con due anime, una è quella biologica, quindi la ricchezza biologica di questi fondali, e una è quella archeologica. Non lascere questo posto per nessuna ragione al mondo, cioè il mio cuore, una parte del mio cuore è qui. Non esistono altri posti dove uno stia a contatto con la natura, tranquillo, di trovare sempre il posto, soprenotazione. È meraviglioso, è meraviglioso. Io ormai vengo solo qui, sono una fan sfegatata della Gaiola. Ancora cronaca, anziana trovata morta nella sua abitazione, dove sarebbe rimasta per circa due mesi prima che qualcuno si accorgesse di lei. è accaduto a San Nicola Manfredi, nel Sagno, la vittima è un'ottantasentenne che viveva da sola in una frazione alle porte del paese. Nessuno aveva avuto più notizie di lei, ecco perché, secondo una prima ricostruzione, il sindaco Carabinieri e i vigili hanno raggiunto il suo domicilio quando sono entrati all'interno dell'abitazione. L'attrice è scoperta, su disposizione del sostituto procuratore. Il medico legale ha proceduto ad un sopralluogo alla visita esterna della donna che sarebbe stata colpita da un malore che non le avrebbe dato scampo. Mercato di Sera, pienone da Orietta Berti e commercio che riparte con due distretti in città e una nuova notte bianca. D'Avellino però resta sullo sfondo la protesta per la movida. Mercato di Sera, il successo della notte bianca e del concerto di Orietta Berti a Picarelli. Avellino riparte in questa estate 2022. A Campogenova si è replicata l'esperienza dello scorso anno con un buon riscontro. Fanno sapere gli ambulanti, alla gente piace guardare gli stand e spendere qualcosina al fresco. Speriamo di ritagliarci un'altra serata come questa in questo scorcio d'estate che rimane. Mentre si animava il mercato serale, l'intramontabile Orietta Berti conquistava Picarelli con il suo concerto. Soddisfatto l'assessore agli eventi Stefano Luongo. E intanto il vice sindaco Laura Nargi annuncia una nuova notte bianca in versione invernale, ma anche la presentazione del piano del commercio con due distretti al corso e al centro storico. L'amministrazione comunale ha incassato il successo della serata di shopping con gli artisti di strada e i DJ, che venerdì ha coinvolto migliaia di persone al corso. Ma intanto sullo sfondo resta la protesta dei residenti del centro storico per la movida incontrollata. Dal mese di giugno ci siamo visti calare dall'alto una serie di iniziative che non avevano niente a che vedere con quelle che sono le esigenze di un reale centro storico. Adesso il centro storico va rivalutato, va tutelato. La stessa sovrintendenza per quanto riguarda i beni architettonici e compagnia dovrebbe farsi sentire. Nel momento in cui poi si fanno delle attività, le attività che devono sorgere sono tali o dovrebbero essere tali che il centro storico diventi appetibile per chi ci possa vivere. Non è che si organizzano delle serate con il caos predominante e si fa sì che praticamente la gente corra. La festa della marchigiana del Fortore, la quindicesima mostra bovina di razza marchigiana interregionale, San Giorgio Lamolara in provincia di Benevento, punta sulla promozione dell'importante produzione che caratterizza il centro del Beneventano. Lavorare insieme per salvaguardare un comparto in difficoltà è l'input che arriva dal convegno Il futuro della zootecnia da carne nel Sannio, momento clou della giornata conclusiva della festa della marchigiana del Fortore e della quindicesima mostra bovina di razza marchigiana interregionale. Non solo degustazioni e momenti ricreativi, l'evento dell'amministrazione di San Giorgio Lamolara punta anche su convegni e confronti per la promozione di un'eccellenza. Riprendiamo la festa della marchigiana, per noi è un fatto importante perché rappresenta il fiore all'occello del nostro territorio, del nostro comune. Si riparte e con degli obiettivi precisi. Come amministratori, io sono anche allevatore della razza bovina marchigiana, ce la stiamo mettendo tutta per promuovere i nostri prodotti. La nostra intenzione è far rete tra gli allevatori e quindi cercare di fare dei contratti di filiera per la qualità dei prodotti. Eccellenza che ha ottenuto il riconoscimento IGP assegnato agli allevatori del Fortore che conta circa 2.500 capi bovini. È un momento difficile, è un momento di crisi, anche per il nostro settore. I prodotti di qualità vengono richiesti e cercati. Il problema sono i costi di produzione che ormai stanno avendo degli aumenti impensabili. Essenziale è l'aiuto della politica per evitare il pericolo del cibo sintetico. La necessità di puntare molto sulla qualità come in questo territorio è stato fatto viene anche dal fatto che oggi c'è un attacco alla zootecnia. I grandi multinazionali che stanno investendo sulla carne sintetica. Il popolo non vuole assolutamente carne sintetica, vuole carne di qualità e quella noi dobbiamo dargli. A Salerno continua a tenere banco la vicenda legata alla delocalizzazione delle fonderie Pisano. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, rilancia, servono atti concreti. Mettere in campo azioni concrete per delocalizzare le fonderie Pisano di Salerno a chiederlo è il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che da tempo è in prima linea nella vicenda dello stabilimento di Fratte, confinante proprio con il comune della Valle dell'Irno. Per la fascia tricolore è necessario voltare pagine in maniera definitiva per dare una risposta reale alle istanze dei cittadini. Purtroppo questa triste pagina delle fonderie Pisano sembra che non c'è questa volontà da parte della proprietà di voler delocalizzare, di accelerare anche i tempi di presentazione del progetto in Regione Campania, soprattutto per quanto riguarda l'impatto ambientale. Però da un'altra parte ci fa ben sperare l'acquisto dei terreni a Buccino e tra l'altro è ancora pendente dal Consiglio di Stato il ricorso da parte del comune di Buccino. Nelle scorse settimane la Regione Campania ha rigettato l'istanza che era stata presentata dall'azienda per delocalizzare l'impianto a Buccino perché ritenuta inadeguata, una decisione che ha alimentato nuove polemiche e che ha riacceso lo scontro. Spero che a conclusione di quest'anno si possa parlare concretamente di delocalizzazione per riqualificare un'area, quella di Fratta, a confine con il comune di Pillezzano che come ho sempre detto è completamente urbanizzata e tra l'altro sono stati numerosi gli studi che sono stati fatti sul territorio. Non da ultimo il progetto Tutela che ha puntato l'attenzione su diversi screening oncologici sul nostro territorio e spero che anche questo possa servire a fare le famose conclusioni dello studio spesso. Mobilità elettrica e turismo sostenibile nelle aree interne annusco l'incontro con l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. Il messaggio di Casciaro contiene ancora grande attualità già che lui riflette molto sugli equilibri uomo-natura sulla sostenibilità nella mare e vivere il territorio. Da un lato la riscoperta di Giuseppe Casciaro tra i più importanti pittori dell'Ottocento italiano paesaggista e decano della scuola pittorica napoletana raccontato in un libro attraverso un'attenta ricerca storica e artistica da Vito Carbonara e dall'altro la cultura che fa da traino al rilancio del turismo sostenibile nelle aree interne. Una sfida sulla quale intende scommettere convintamente l'assessore regionale Felice Casucci. Ieri abbiamo fatto una passeggiata prendendo una macchina abbiamo testato una macchina 100% elettrica da Napoli a Montefredane siamo andati nella zona del Pozzo che è molto bella e devo dire che è stata un'esperienza bellissima una macchina che non produce alcun tipo di rumore che si ricarica nelle discese a emissioni zero vai nei luoghi non violenti con la mobilità che produce un impatto negativo ma una mobilità veramente sostenibile e questo noi stiamo creando dei pacchetti turistici legati ai prodotti agricoli tradizionali e la ripina è ricchissima di tipo di accoglienza anche legata alla ricettività che utilizzano la mobilità elettrica. A Benevento volontari in campo per la prima giornata del progetto Puliamo le Contrade. Dalla plastica gli ingombranti volontari hanno trovato rifiuti di ogni genere che sono stati raccolti e smaltiti con il supporto dell'ASEA è il risultato della prima giornata dedicata a Benevento al progetto Puliamo le nostre Contrade attività di sensibilizzazione che ha preso il via da Contrada San Chirico e che coinvolge direttamente i cittadini nella cura e nella manutenzione del decoro urbano. Il lavoro è stato enorme hanno aderito più o meno 25-30 persone fino a questo momento abbiamo trovato di tutto di più tra la plastica, il vetro, gli ingombranti è stato buttato di tutto quindi il messaggio è questo cerchiamo di tenerli puliti questi posti ma di rispettare quelle che sono le regole della civiltà poi quello che l'amministrazione deve fare sicuramente lo sta già facendo c'è la collaborazione dell'ASEA che è importante l'ASEA sta facendo un ottimo lavoro però questa giornata era soprattutto per dare questo messaggio cioè siamo tutti responsabili del nostro territorio significa questo che ci vuole rispetto. iniziativa pertanto destinata a proseguire coinvolgendo anche le altre contrade della città sicuramente faremo altre iniziative ho avuto anche già delle richieste anche da qualche altra contrada ovviamente le contrade sono immense per cui il lavoro da fare sarebbe tantissimo però iniziare io dico almeno si inizia aziende vigneti devastati dalla grandine ciavellino a lavoro per una prima conta dei danni in Irpinia è bastato un pomeriggio per distruggere un anno di lavoro di oltre 50 aziende irpine una violenta grandinata si è abbattuta su vigneti, uliveti e frutteti in tutto l'areale segnalazioni di aziende agricole danneggiate sono tante e si stimano danni oltre l'80% siamo preoccupati, dice il presidente di Ciavellino Stefano Di Marzo l'areale colpito è molto vasto però l'areale che ha subito più danni ha frutteti, uliveti, vigneti, colture ottive va soprattutto nei comuni di Castelfranci, Nusco, Torella dei Lombardi dove i danni sembrerebbero molto ingenti noi ci siamo già attivati con la segnalazione alla regione Campania per chiedere una verifica dei danni e comunque per ottenere nel caso una richiesta di stato di calamità proprio dovuto alla grandine i danni sono ingenti ma soprattutto arrivano in un momento molto difficile e poi sulla prevenzione afferma l'agricoltore può sicuramente intervenire con la stipula di polizie assicurative verso disastri TG News termina qui ora ci sono le previsioni meteo a voi che è da tutti grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito